Oh my goodness! Good luck! Sicuramente avrà una lunga strada per tornare a destra in quelle squadre che eravamo. El Gattuso è uno che capisce molto bene come funziona il sistema del Milan. Capisce molto bene la città Milano, il tifoso del Milan. E credo che lui sia uno degli allenatori che può cambiare un po' questa mentalità che aveva prima. Ora troppo presto, perché lui nella verità già fa un po' di tempo allenatore, però l'esperienza in una grande squadra, in una grande società, lui ha questi anni. Però credo che lui ha una voglia grandissima di lavorare, è uno che ha un impegno grossissimo dentro la squadra e in tutto quello che fa. E credo che lui nel momento del tempo può tornare. Il più difficile? Il più difficile? Il più difficile. Che ho giocato il contro è stato Ronaldo. Ronaldo, Ronaldinho, Zidane.